buongiorno a tutti benvenuti alla rassegna stampa di oggi un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori cominciamo subito dall'almanaco e il santo del giorno oggi è san ludovico re di francia il sole sorto alle 6.23 tramonterà le 19.58 guardate la fotografia niente a che vedere con quella di ieri ieri densa di nuvole oggi invece vedete un cielo assolutamente sereno con 21 gradi e 3 e un'umidità molto alta abbiamo un 94 per cento di umidità anche ieri insomma una giornata molto umida oggi che cosa avremo che cosa prevede la protezione civile delle marche oggi avremo cielo parzialmente nuvoloso con maggiori nuvolamenti nelle zone interne schierite sempre più ampia a partire dal tardo pomeriggio con deboli sparse precipitazioni più probabili nelle ore centrali della giornata le temperature sono in lieve aumento nei valori massimi venti inizialmente di brezza tesa sud occidentali con raffiche fino a moderati nell'interno andranno in rotazione da est nel corso del pomeriggio il mare sarà poco mosso per quanto riguarda la giornata di domani mercoledì 26 agosto comincia a migliorare il tempo abbiamo detto ieri che mercoledì tornava sarebbe tornata l'estate dunque ancora forse un po rilento comunque cielo sereno poco nuvoloso con qualche rovescio lungo la costa in mattinata e locali rovescio temporali nelle zone interne invece nelle ore centrali le temperature sono stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi i venti da settentrione con raffiche fino a moderati lungo la costa quindi insomma per domani ancora il tempo così così mentre migliora decisamente per la giornata di giovedì 27 agosto con cielo sereno poco nuvoloso le temperature in aumento i venti sono di brezza leggera o tesa da settentrione il mare sarà poco mosso allora condizioni invece per i giorni successivi condizioni stabili e soleggiate caratterizzeranno il resto della settimana e l'inizio della prossima settimana una tragedia quella di cui vi parliamo questa mattina nella rassegna stampa una tragedia che si è consumata sulle strade ieri vicino a Senigallia il terribile schianto uno schianto frontale in moto contro un'auto e il giovane Nicolas che vedete in questa fotografia è morto sul colpo il giovane di San Filippo andava dagli amici è successo ieri alle 15.50 a Senigallia ha perso la vita a Nicolas Tarsi 16 anni avrebbe compiuto 17 anni il prossimo 14 settembre di San Filippo sul Cesano comune di Mondavio il giovane era in sella a suo ciclomotore Honda e stava percorrendo la statale Adriatica in direzione sud quando in località Carmine di Senigallia per cause che ancora sono in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con una Volkswagen condotta da un 28enne residente del luogo il casco, eccolo qua, il casco di questo ragazzo è schizzato lontano dal corpo senza vita bisognerà capire adesso se questo casco un po' come avviene spesso non viene allacciato, non viene sistemato bene vedete, pare che sia un casco chiuso quindi è anche il casco giusto ma bisogna capire adesso insomma come è avvenuto l'impatto è stato di una violenza tremenda scrive il quotidiano questa mattina quello tra la moto e la Volkswagen tanto che il casco indossato dal ragazzo è schizzato a metri di distanza dal luogo dello schianto e gli amici, gli amici che dicono, raccontano un ragazzo d'oro non meritava questa fine sempre disponibile era atteso a torrette dai compagni di scuola per la festa che poi naturalmente è stata annullata e ha gettato tutti nella disperazione ha gettato nella disperazione un intero paese quello di San Filippo sul Cesano frazione di Fondovalle di Mondavio e allora eccolo qua la foto di Nicola naturalmente si parla di questa tragedia anche sugli altri giornali poi la cronaca da Pesano invece con l'arresto l'arresto degli spacciatori di eroine e di cocaina incassavano 45 mila euro al mese la squadra mobile li ha bloccati al ritorno dalla Romagna avevano addosso molta sostanza stupefacente ancora da dividere in dosi si chiamavano Michele Righi di 46 anni e Andrea Baldarelli di 32 entrambi conosciuti dalla giustizia poi qui di spalla sul giornale il capo delle volanti viene dal Quirinale e della moglie del comandante dei Carabinieri di Pesaro Emanuela Canestrini guiderà l'ufficio volante e della moglie del colonnello Filoni sotto invece un ladruncolo che si infila al ristorante e farà zia ma iPhone e Carabinieri risolvono il giallo rubato il portafogli allo sposo poi però come dicevo c'è il lieto fine mentre minorenni sorpresi con marijuana è un 29enne con un ingente quantitativo di sostanza da Fano invece l'apertura è per San Bartolomeo la fiera di San Bartolomeo che è iniziata nella giornata di ieri proseguirà fino a domani San Bartolomeo fa il pieno gran folla per le bancarelle sul lungomare di Sassonia le novità dei venditori di tappeti bus da Marotta e da Torrette ora seri prenda con sé Davide Rossi oppure licenzi marchigiani la politica fanese è bollente parla Enzo Cicetti fondatore della Tua Fano stizzito per le dichiarazioni dell'assessore al turismo che diceva più o meno è impensabile che uno dei fondatori della Tua Fano come è appunto Davide Rossi è impensabile che possa avere un ruolo così importante come il capo di gabinetto come si era ipotizzato in un primo momento da quel comunicato stampa dal quale poi tutto è partito di Santorelli e Garbatini mi stupisco dice Enzo Cicetti di come si possa escludere qualcuno perché ha fondato una lista appartamenti sfitti Barnesi in colpa a chi l'ha preceduta quindi l'ex assessore in quella residenza ci sono sei persone grazie al nostro impegno stiamo parlando della residenza protetta intitolata Don Paolo Tunucci che si trova nel quartiere di San Lazzaro dove su dieci mini appartamenti per anziani autosufficienti appena tre soltanto tre soli appartamenti sono al momento occupati ancora dal quotidiano bolognese sempre sulle pagine locali ora rumoreggia anche la base del Partito Democratico ridurre i compensi della Regione i consiglieri finiscono nel mirino di Silvano Franchini indennità esagerate cifre proposte indennità di funzione di fine mandato e rimborsi e spese sono troppo alti e ancora l'ultima pagina del resto del carino da Pesaro la stazione di notte è un bivacco decisiva la riduzione dei servizi camper nel parcheggio bancomat eliminato sempre meno sono i treni in circolazione i furti di biciclette sono all'ordine del giorno e Italo ha salutato di nuovo la stazione di Pesaro nel senso che non fa più fermate al calare della notte la stazione di Pesaro diventa una zona pericolosissima dove dilagano i senza tetto ancora dai quotidiani la pagina di Senigallia anche qui in apertura le fotografie del dramma di questo ragazzino che muore a 16 anni dopo un sorpasso ragazzino si schianta in moto con l'auto di un vigilante la stada statale adriatica è rimasta bloccata e qui ci sono le fotografie vedete di Nicolas Tarsi e questo è il motorino sul quale il giovane viaggiava e qui il povero ragazzino steso a terra coperto da un lenzuolo bianco abitava in una frazione come dicevamo di Mondavio tra le cause dell'incidente la strada viscida per la pioggia e qui vedete i curiosi che si sono fermati appunto durante le operazioni di soccorso e poi c'è quest'altra notizia che arriva sempre da Senigallia lancio di bastoni appuntiti l'ultimo gioco da paura tra la gente la segretaria del PD Elisabetta Allegrezza denuncia sul web questo gioco chiamiamolo così guardate che divertimento stupido di adolescenti in piazza 4 agosto e c'è un fotogramma di questo video che è stato appunto postato da questo esponente del PD è stato postato sul suo profilo facebook un video in cui si vedono dei giovanissimi scagliarsi delle aste questa è l'ultima moda e perlomeno speriamo che sia soltanto un momento e non certamente una moda poi sempre da Senigallia baby gang in fuga sull'auto rubata in 4 tra cui un minorenne denunciati per ricettazione alla guida senza patente truffatore seriale sotto raggira una famiglia di turisti si tratta di un siciliano di 35 anni residente a Reggio Emilia caparra scomparsa e vacanze dirottate su Pescara la pagina di Pesaro invece domus aperta al pubblico percorso in 3D la villa romana musealizzata con apparati multimediali e anche per non vedenti l'inaugurazione alle 18.30 l'altra pagina eroina e cocaina due pesaresi in manette spacciavano ai giovani rifornendosi a Rimini da nordafricani stimato un giro di 50.000 euro al mese il dirigente della mobile Bozzi dice è un fenomeno preoccupante il consumo di eroina di cocaina comunque di sostanze stupefacenti è in evidente crescita la pagina di Fano invece tra abbagli epocrisie la politica delle vacuità sull'ipotesi di Davide Rossi portavoce i limiti di opposizione e maggioranza e qui c'è l'analisi politica di Lorenzo Furlani si parte con la pioggia e gli sconti il maltempo ha creato defezioni corsa degli ambulanti stranieri per occupare i posti liberi e ancora riflettori internazionali sulla città di Urbino e sotto il ladro che si intrufola al banchetto nuziale e ruba nell'auto dello sposo che poi però questo ladro è stato bloccato il ladro si imbuca alla festa e svaligia la macchina dello sposo è successo domenica pomeriggio verso le 5 le 17 durante un affollato banchetto nuziale in un locale poco lontano da Tavuglia insomma mentre c'era chi cantava ballava mangiava e beveva quell'uomo quest'uomo solitario si aggirava furtivamente in mezzo alle auto in sosta nel parcheggio del ristorante ha avuto tutto il tempo per fare per entrare insomma nell'abitacolo di quest'automobile che era l'automobile dello sposo e di portare via appunto anche un iPhone che poi è servito anche per rintracciare appunto il malvivente allora dalla pagina di Fano invece del messaggero il nuovo staff del sindaco spacca la maggioranza non piace a noi città l'alto là posto dal partito democratico e la sinistra unita i quali dicono beh anzi no scusate noi città la quale lista dice il sindaco è libero di scegliere chi vuole e quindi di fatto si mette di traverso al PD a sinistra unita critica soprattutto quello che la nota che è uscita da Rita Carnaroli e da Stefano Marcheggiani e quindi insomma c'è maretta ieri sera per chi ha seguito il telegiornale Occhio alla Notizia in collegamento dalla fiera vi avevo anche riferito di un incontro un incontro pochi minuti prima del collegamento con Davide Rossi che stava passeggiando in dolce compagnia appunto con stava passeggiando per le bancarelle e tra le bancarelle della fiera di San Bartolomeo a Fano il tempo di scambiare due battute e di chiedere se era disponibile a rilasciare una dichiarazione a rilasciare un'intervista Rossi ci ha detto che aspettava che il polverone si fermasse un pochettino insomma calasse e queste acque un po' così agitate della politica si calmassero un pochettino e poi probabilmente ha detto dirò la mia nei prossimi giorni e poi ha anche accennato che ieri sera c'era in corso proprio in quei minuti verso le sette e mezzo di sera ancora c'era una riunione di maggioranza in comune per discutere e quella stessa maggioranza che oggi i giornali descrivono come un po' spaccata di fronte alla possibilità di far rientrare Davide Rossi sia come portavoce poi abbiamo visto è escluso come capo di gabinetto ma comunque forse come portavoce del sindaco Massimo Seri Davide Rossi che lo ricorderete è anche stato cofondatore insieme a Stefano Aguzzi ex sindaco di Fano della lista civica la tua Fano poi Davide Rossi è uscito ha litigato con Aguzzi quindi è passato con il centro-sinistra o meglio è passato con la lista civica dell'attuale sindaco che è appunto noi città che poi ha eletto Massimo Seri insomma bisognerà capire come vedere adesso in questa giornata penso anche oggi di capire che cosa si è deciso di fare se davvero Davide Rossi avrà un ruolo in comune oppure resterà fuori il singolo caso insieme alle ipotesi tra l'altro del settimo assessore e di un rimpasto delle deleghe è spia dice scrive il messaggero di un malessere comunque più complesso sotto guasto ai computer disagio al laboratorio di analisi inizio di settimana ad ostacoli per laboratorio di analisi dell'ospedale Santa Croce di Fano il cervellone del sistema informatico che è il server è rimasto fuori servizio per qualche tempo a causa di un'interruzione di corrente verificato intorno alle 6 di ieri mattina tra l'altro adesso ricollego un po' perché tra l'altro ieri mattina c'è stata questa interruzione di corrente che non solo ha mandato in tilt il server del laboratorio analisi ma ha bloccato anche gli ascensori e dentro l'ascensore c'era una signora che lavora in un'impresa di pulizia che è stata chiusa dentro per un'ora è dovuta rimanere dalle 6 alle 7 dentro questo ascensore all'interno dell'ospedale insomma non è poco allora noi ci fermiamo qui la rassegna stampa Occhio ai giornali torna domani mattina alle 7.30 invece questa sera come di consueto c'è il nostro telegiornale Occhio alla Notizia ma vi ricordo che abbiamo anche il nostro sito internet tra l'altro visitatissimo sempre seguito non solo attraverso il desk ma anche attraverso gli smartphone Occhio alla Notizia punto it dove ci sono tutti i filmati le repliche potete rivedere tutto quello che produciamo in televisione on demand di fatto sul vostro cellulare o anche sul computer e l'ultima cosa che vi devo dire e lo ribadisco è il nostro numero di telefono 338 4968 250 anche con Whatsapp per le vostre segnalazioni che siano quelle di cronaca quindi che vanno dall'incidente eccetera eccetera fino ai disagi e ai disguidi che possono succedere nella nostra città quando dico nostra città non intendo solo Fano perché il nome è Fano TV intendo nostra città ovunque noi arriviamo con il nostro segnale quindi prendetela un po' nostra città ma insomma inteso come Fano, Pesero, Lucrezia piuttosto che Fossombrone, Senigallia insomma chiamateci ovunque ci sia bisogno grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.